Dai, sbrigati, scendi, finisco di mangiare la beperonata e scendo. A vent'anni dalla sua prima uscita, il film che ha lanciato Aldo, Giovanni e Giacomo. Un vero cult della comicità italiana. Cos'è l'inserto di Repubblica? La rocca è tutta prelandibile! Allora, mi lasci parlare o no? Tre uomini e una gamba. Mercoledì 21 e 15, Italia 1.